Friedrich Schlegel. L'opera filosofica di Friedrich Schlegel è assai importante se contestualizzata nel suo periodo ma in generale per la discussione anche che suscita nell'epoca della filosofia classica tedesca. Schlegel vive tra il 1772 e il 1829. Un suo saggio giovanile intitolato sullo studio della poesia greca del 1797 introduce una decisiva differenziazione tra la poesia oggettiva e la poesia interessante. Tale distinzione recupera in sostanza quella già operata da Schiller tra la poesia ingenua e la poesia sentimentale. Anche Schlegel sulle orme di Schiller è persuaso del fatto che la poesia moderna interessante, così la chiama, non si debba Sikhet Simpliciter contrapporre alla poesia classica, la poesia oggettiva come la chiama Schlegel. Al contrario la poesia moderna deve recuperare i valori dell'oggettività per il tramite di un processo di riflessione su se stessa. Ecco perché Schlegel elabora, ispirandosi anche a Kant, l'idea di una poesia trascendentale o poesia della poesia. La poesia trascendentale è quella in cui si ricompone la spaccatura tra la spontanea unità della poesia oggettiva classica e le consapevoli divisioni di quella moderna. Il mondo classico era unitario, organico, quello moderno è l'epoca dell'intelletto separante, direbbe Hegel, delle divisioni. Occorre ricomporre senza tuttavia essere semplicemente nostalgici del passato. Un altro punto nodale della riflessione di Schlegel è la teorizzazione del concetto di ironia, un concetto che è decisivo si badi nella cultura romantica. In ambito estetico, ed è qui che trova la prima formulazione romantica, il concetto di ironia allude al nesso di inadeguatezza tra l'infinità dell'artista creatore, inteso come soggetto assoluto, e la finitezza dell'opera d'arte del mondo fenomenico in cui essa opera. L'ironia, cioè, allude alla discrepanza costante, al rapporto di inadeguatezza tra l'infinità dell'artista che crea e la finitezza dell'opera d'arte in cui l'artista si obiettiva. Il concetto, però, viene ad alludere più genericamente all'atteggiamento di chi, ben intendendo il carattere relativo, il carattere relativo degli aspetti finiti dell'esistere, coglie l'incommensurabile superiorità dell'infinito che è in sé. Schlegel definisce in questo senso l'ironia come il modo di sentire di chi, scrive, sovrasta ogni cosa, di chi si innalza infinitamente al di sopra di ogni cosa finita, anche sopra la propria arte, virtù e genialità. Altri temi fondamentali dell'opera filosofica di Schlegel e anche dell'incidenza della cultura romantica a partire da Schlegel sono due testi, forse filosoficamente non così densi, ma che hanno una grande importanza nella cultura del tempo. Il saggio Sudiotima, del 1795, è il romanzo Lucinde, 1799. In questi due testi Schlegel viene maturando una dottrina dell'eros in cui è facile riconoscere il diritto della donna a rinvenire la propria realizzazione nella passione. Schlegel teorizza, cioè, l'idea di una donna che nell'amore realizza se stessa, liberandosi dal gioco del maschio e diventando appunto libera di realizzarsi nella passione. Soprattutto Lucinde, che generò in vero un grandissimo scandalo all'epoca, contribuisce fecondamente a quell'emancipazione della donna che nella cultura romantica era semplicemente teorizzata, ma anche per certi versi praticata. Insomma, con la Lucinde di Schlegel è teorizzata una sorta di prima visione dell'emancipazione della donna. Non per caso Federico Nietzsche detesterà con tutte le sue forze quest'opera e questa concezione. Il modello autobiografico di Lucinde è infatti Dorothea Mendelssohn, la figlia del filosofo illuminista Moses Mendelssohn. Dorothea Mendelssohn si era separata dal proprio marito per sposare lo stesso Schlegel. Sicché Schlegel, celebrando con la Lucinde la donna che si emancipa, che nella passione si realizza, celebra in se stesso la propria compagna Dorothea Mendelssohn e anche in fondo se stesso. Quando morì Novalis, nel 1801, il circolo di Iena si sparpagliò, si ruppe potremmo dire, e Schlegel tenne corsi privati a Parigi e a Köln, a Colonia. Nel 1808, dopo essersi convertito al cattolicesimo, si spostò a Vienna e qui si mise al servizio del principe di Metternich, che come è noto fu uno dei principali epigoni e attuatori della restaurazione. Proprio a Vienna Schlegel attivò un nuovo circolo, che era ormai espressione del tardo romanticismo tedesco, e fondò la rivista Concordia, 1820-1823. Questa fase terminale dell'attività filosofico-poetica di Schlegel si contraddistingue politicamente per la difesa della politica restauratrice reazionaria guidata dal governo austro-ungarico a partire dal congresso di Vienna. Quindi sul piano politico, va detto, Schlegel compie una strambata verso una forma di visione reazionaria dei rapporti. Sul piano filosofico, invece, questa fase terminale della riflessione di Federico Schlegel si caratterizza per una evoluzione del suo pensiero in direzione religiosa e teistica. Il nucleo fondamentale della riflessione ultima di Schlegel diventa quello di elaborare una filosofia che sostituisca l'idealismo tedesco, che egli riconduce soprattutto ai quattro sistemi di Fichte e di Schelling, che sono le espressioni dell'idealismo teoretico, e poi di Kant e di Jacobi, che invece rappresentano il versante pratico dell'idealismo, ossia il tentativo di volgere dalla filosofia alla fede con un salto nel buio. Né il metodo razionale speculativo, né il ricorso all'atteggiamento fideistico, sono in grado per Schlegel di cogliere l'assoluto nella sua pienezza. Per poter cogliere davvero l'assoluto occorre attingere l'elemento della personalità come base della vita stessa. L'ultima parola di Schlegel è quindi la rivalutazione di un atteggiamento religioso incentrato sulla figura del teismo, cioè sull'idea di una concezione di Dio come persona e come vita. L'ultima fase del periodo della riflessione schlegeliana è dunque rappresentato da alcune lezioni che vanno sotto il nome di filosofia della vita, 1827, filosofia della storia, 1828, e filosofia del linguaggio e della parola, del 1830. Sicché la parabola filosofica di Friedrich Schlegel si chiude poi con una conversione religiosa verso il teismo e con una conversione politica verso la restaurazione e la reazione.